Era fissata questa mattina alle 10 l'asta per le 26 lettere inedite di corrispondenza tra Giuseppe Verdi e il librettista Salvatore Cammarano. Il lotto sarebbe stato battuto da Sotesby a Londra per un prezzo di 358 sterline. Le lettere provenienti da una collezione privata sono state acquistate, fuori asta, dal Ministero per i beni culturali. Soddisfatto il ministro Dario Franceschini che ha dichiarato abbiamo silenziosamente lavorato per fare tornare in Italia questo straordinario patrimonio. Per richiedere l'acquisto della corrispondenza si erano mobilitati anche Regione Emilia Romagna e Comune di Piacenza. Il materiale è relativo all'arco cronologico 1844-1851 e sarà fonte importante per i futuri studi di alcuni titoli come Alzira, Luisa Miller o La Battaglia di Legnano. In merito sono arrivate le dichiarazioni del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri. Si tratta, dice, di un primo passo che l'assessore Polledri a nome dell'amministrazione comunale aveva sollecitato nei giorni scorsi, anche se ora sarebbe opportuno che questi documenti, dopo un percorso di restauro che li renda idonei all'esposizione, potessero far parte di un patrimonio pubblico ed essere ammirati da tutti. L'auspicio del primo cittadino è che ciò possa avvenire a Piacenza, in virtù dello storico legame tra il territorio piacentino e Giuseppe Verdi. Spero che possa esserci un confronto costruttivo con il Ministero proprio su questo tema, ha concluso Barbieri.